L'Eden Village Minoa Palace sorge presso il villaggio di Amnissos, su una lunga e bellissima spiaggia di sabbia dorata, lambita da un mare limpido con fondale dolcemente digradante. La posizione è eccellente sia per la splendida ambientazione naturale, sia per la vicinanza a importanti siti archeologici e all'animato centro di Heraklion, il capoluogo di Creta. L'Eden Village può anche essere un piacevole punto di partenza per esplorare altre caratteristiche spiagge dell'isola, come la rinomata spiaggia di Elafonissi, a circa 220 km. 125 le unità abitative, disponibili in diverse tipologie per assecondare ogni esigenza e dotate di ogni comodità. Servizi privati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, tv sat, telefono, radio, mini frigo, aria condizionata, balcone. Per gli amanti della gastronomia, Minoa Palace mette a disposizione degli ospiti un ottimo servizio di ristorazione grazie al ristorante principale Vista Piscina, taverna snack bar sulla spiaggia, bar, bar piscina. L'Eden Village propone l'all inclusive comprensivo di drink di benvenuto, pensione completa a buffet presso il ristorante principale con cuoco italiano, bevande ai pasti in bicchiere, una volta a settimana serata greca con cena tipica locale, bevande incluse in bicchiere nei bar, bar, dalle 10 alle 24, snack dolci e salati dalle 10 alle 18. Per gli sportivi e gli amanti del relax, due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, tennis, calcetto, ping pong, beach volley, palestra, appagamento, massaggi e bagno turco, biliardo, canoa, windsurf, pedalò. Le numerose attività del mini club e i servizi appositamente pensati per i più piccoli rendono il luogo ideale per il divertimento dei bambini e per il relax dei genitori. Tra i vari servizi disponibili, sala tv, sala carte, appagamento, collegamento internet, servizio lavanderia, cassetta di sicurezza, sala conferenze, mini market, rivendita di giornali, babysitting su richiesta e servizio medico. Eden Viaggi augura a tutti una piacevole permanenza. Grazie a tutti.